ciao amici e ben tornati su youtube. Volevo iniziare questa nuova serie, infatti avete visto gli occhiali da esperimento scientifico. Volevo iniziare questa nuova serie dove facciamo gli esperimenti sociali. Noi adesso facciamo un esperimento social in questa tazzina piccola, che è un paese del flamingo, dove è disposto alla telecamera più in via. Eccoci nella prima parte di esperimenti sociali. Direi di prendere questa tazzina e riempirla con dell'acqua. Pensate che metterò la telecamera qua adesso. Qua. Anche più in qua. Tazzina riempita alla massimo. Poi direi di prendere un po' di deodorante. Poi direi di mettere un po' di colorante per vestiti. Che non è colorante per vestiti, è per lavorare. Oh mio Dio. E come voi non state notando. Sto facendo un esperimento. Poi direi di portarci dentro anche del deodorante per uomini però. E vedrete la differenza. Se avete notato meno più per donne, solo con l'acqua, non usciva così tanta acqua. Ma quello per uomini? guardate. Esce tantissima acqua. Esce più acqua con quello per uomini, con il detersivo, che quello per le donne senza detersivo. Allora. Puoi direi di metterci del talco. Che è il gusto di talco ma in realtà è settificante. Direi di metterci ancora un po' di deodorante. Sempre per donne. È finito. la palle. Poi con questo aspiratore, che mi sa che non posso usarlo, direi di metterci un'unghia finta. uno. Spaventa. Aspetta. Un'unghia finta. Un'unghia finta. Un'unghia finta. Io non vi svelo il mistero. Non è un mistero. Se volete avere anche una cosa abbastanza profumata, metteteci del profumo da maschi e femmine. nel caso io l'ho messo da maschi. Oh mio Dio. Vuol direi, se avete un barattolo tipo così, dei kit kat, dei tic tac, vanno bene tutti, sono ottimi. io vi consiglio. Direi di smuotarlo mio. Andare tutte le viti. Metterle qua sopra. Versare tutto quello che avete qua. si va a base cucina adesso. Che ci andrà il colorante. Ragazzi, vi do un consiglio. Qua dentro, dentro il barattolo, c'era dello sporco nero. Scuotetevi se c'è qualche sporco, perché è meglio. Uuuuh, sta prendendo colore. Non vedo quale sarà il... 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 Ah, è chiuso. Vabbè, ci vediamo in cucina. In base cucina ci servirà solo un ingrediente. Il... Vediamo se c'è l'ho. Il... C'è l'ho. C'è l'ho. C'è l'ho. La cannella. Perché la cannella è profumata. Quando avete messo la base cucina, vi consiglio di risciacquare il vento. Spottetelo per bene. Se per voi è possibile... Se c'è lì... Uuuuh, ci sono anche gli accioli. Buoni! Meglio nero uno quando avevo finito il video. Se vi avete la possibilità... Infatti un po' tutto ce l'avete... Di metterci... Un po' di gaccio. Metteteci anche un po' di gaccio che è meglio. Perché se non... C'è... Mettete il gaccio. Ascoltatemi. Mettetelo in freezer per... Dieci minuti massimo. Ragazzi, l'esperimento è funzionato. È diventato solo schiuma. Schiuma. Neanche un po' di liquido. Sarò qua un pochino giù. Ehm... Vediamo qual è stata la trasformazione dell'oglio. Ok, io il bicchiere d'acqua ce l'ho già pronto qua. Esperimenti sociali di secondo me. qua. Mettete un po' di liquido. Oh, ho caduto un'acqua. Ragazzi, l'unghella si è sciolta. L'esperimento è andato benissimo. Ragazzi, aspetta, dato che questo è una nuovo serie, dovrei concludere con gli occhiali. Guarda, se lo metto vi è piaciuto. Dai, concludi il video con me. Dai, sentiti qua. No, no, vai, in piedi, in piedi, in piedi. Devi dire, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti pollicioni in su, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Metti la mano. Ciao. 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 Ciao.